Eccoli partiti Nike Blue, Mr. Bellucci poco prima dell'ingresso Addirittura è in vantaggio Leditari davanti a Iomeirene, Coloxa e Fumini I cavalli entrano in dirittura Con Pureble in leggero vantaggio a centropista Attaccata all'esterno da Mr. Bellucci Lungo la corda Leditari Seguono Nike Blue per linee interne Coloxa in vantaggio Leditari Attaccato a centropista da Mr. Bellucci Tra i due Pureble E in leggero vantaggio Mr. Bellucci Davanti a Leditari, Pureble e amica di tutti Grazie per la visione Grazie a tutti